Nel cuore della meravigliosa Cagliari, questo settembre, unisciti a noi per un evento unico. Bike Sardinia Festival, la grande festa per tutti. Sarà un'esperienza indimenticabile, dedicata a promuovere la mobilità in bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sanitare. Spettacoli acrobatici in bicicletta che ti lasceranno senza fiato, divertenti giochi per i più piccoli, imperdibili esposizioni di elaborati artistici e biciclette decorate. Unisciti a noi nella promozione di uno stile di vita più verde, più attivo e più socialmente coinvolgente. Bike Sardinia Festival. Il futuro è ora e insieme possiamo fare la differenza. Vi aspettiamo il 24 settembre nel bellissimo parco di Monte Claro. Cagliari, pedaliamo insieme verso un futuro migliore.